Le buone notizie, quelle che servono essere più ottimisti verso il futuro. Tre ragazze di 16 anni all'uscita di scuola, vicino al parcheggio Fogazzaro di Vicenza, lungo Contrape de Muro San Biagio, trovano un portafogli. Dentro ci sono 345 euro in contanti. Bene, lo prendono e lo portano immediatamente al comando di polizia locale di Vicenza, dove gli agenti possono così contattare il legittimo proprietario e restituirglielo. Un grande senso civico delle tre studentesse che diventano un esempio per la loro onestà.